ah zitta mi è arrivato un pacco vuoto non lo so di quello che avevo ordinato spero che sia quello che ho ordinato siccome la mia frangetta è abbastanza spennata che dallo stress ho perso tutto tutto ho perso capelli palle tutto ho perso dallo stress mi sono ordinata la frangetta finta guarda che meraviglia speriamo che sia del mio stesso colore ora la provo so bitta allora questo qua è il risultato ma è normale che assomiglia a una crichetta ma allora sai che ti dirò che fa schifo al cazzo comunque è guardabile no che dici tu un po troppo smollettate però che dici tu no 20 euro l'ho pagata che cazzo vuoi che cazzo pretendi è carina